Ciao a tutti! Non trucchetti ma di accorgimenti per quanto riguarda la fase conclusiva della patente, ecco io mi ci ritrovo a pieno quindi magari ci possiamo ritrovare su alcune cose e io posso dare dei consigli a voi per quanto riguarda la mia esperienza personale e voi potete darmi invece qualche non lo so consiglio o cosa se avete già concluso la patente. In più vi dirò anche le cose che ho utilizzato io, il libro, l'applicazione per i quiz e tutte queste cose. Allora io ho iniziato la mia avventura di patente già prima di fare i 18 anni perché per chi non lo sapesse si può iscriversi alla patente un mese più o meno prima di compiere i 18 anni. Ecco io mi ero già iscritta prima, è stata una cavolata perché io ho avuto poi il periodo esame a scuola e quindi non ho potuto frequentare, io invece pensavo di riuscirci e sotto quel punto di vista ho fatto una cavolata. Però comunque sia io mi sono iscritta a maggio perché facevo gli anni a aprile e praticamente ho iniziato i quiz veri e propri cioè a studiare proprio mettermici praticamente a inizio settembre, forse un po' prima di inizio settembre comunque più o meno questo è il periodo. Perché poi l'esame l'ho fatto il 5 ottobre, il primo esame di teoria l'ho fatto il 5 ottobre. Quindi in tutto si può dire che io ho studiato un mesetto e mezzo più o meno qualche giorno di teoria prima di fare poi l'esame. Come ho studiato? Io ho studiato principalmente da privatista perché sono andata a lezione due volte, io mi sono iscritta in autoscuola e tutto, ci si può iscrivere anche direttamente alla motorizzazione ma io mi sentivo più sicura a stare con un'autoscuola e quindi mi sono iscritta però sono andata poche volte a lezione perché non mi ci trovavo. Cioè ho preferito fare tutto di mio, diciamo così. E mi sono confrontata anche con tantissime di voi e moltissime di loro mi hanno detto che anche loro hanno studiato da privatista. E io devo dire che mi ci sono trovata abbastanza bene, primo perché io mi trovo bene a prescindere da studiare da sola e secondo perché secondo me si sta un po' più con calma, cioè non troppa ma comunque un po' più di calma. L'unica cosa che mi è stata molto d'aiuto è stata una ragazza che lavora lì in autoscuola che praticamente ogni errore che facevo nelle schede, nei quiz che poi andavamo a correggere insieme, lei me lo spiegava. E quindi tramite quello io ho imparato tantissime cose, cioè praticamente la base di tutte le nozioni, segnali e cose del genere. Quindi lei mi è stata molto d'aiuto. Adesso naturalmente io non so a quale autoscuola andate, se c'è una ragazza che vi fa questa cosa. Però sicuramente vi sarà molto utile avere qualcuno che vi spiega gli errori. Quindi io il primo mese sono andata tutte le mattine lì a fare i quiz e ne facevo tipo tantissimi. Cioè facevo almeno 15 schede al giorno lì la mattina con lei, quindi lei me le spiegava e poi tornavo a casa e ne facevo almeno altri 5-6. Quindi più o meno al giorno ne facevo una ventina, che è sicuramente la cosa fondamentale perché più ne fate e più cose andate ad acquisire. Il libro su cui studiavo, tra virgolette, perché poi non ho mai aperto il libro per studiarlo, cioè andavo a ricontrollare qualcosa che magari non mi era chiara, è questo qui. Adesso non so l'autoscuola che frequentate quale libro ha, però io ho avuto questo qua. Sinceramente è spiegato molto bene le immagini e la spiegazione. È diviso per categorie, quindi segnali di pericolo, obbligo, temporanei, di cantiere, indicazione, poi ci sono anche la parte meccanica, patenti, documenti, incidenti e cose del genere. E poi la ragazza, visto che l'argomento patenti non mi entrava in testa, tuttora non mi entra in testa, ma dettagli, lei mi aveva fatto questo fogliettino che praticamente ci sono riportate le età e le varie patenti che si possono conseguire e poi i limiti di velocità che si possono tenere. E mi è stato molto utile perché ogni tanto me lo andavo a ricontrollare. Quindi questo libro l'ho usato prevalentemente soltanto per ampliare quello che già sapevo, ecco, diciamolo in questo modo. E l'applicazione su quale ho fatto i quiz è questa qua, Sida Quiz App si chiama. Vi scrivo il nome in sovraimpressione, però comunque me l'ha dato l'autoscuola e loro creano il tuo account, quindi non tutti possono accedere a questa applicazione. Quindi chiedete sempre, quando vi iscrivete in autoscuola, se hanno un'applicazione loro o comunque su Apple Store o Play Store, non so come si chiama con l'Android. Sicuramente se mettete quiz patente ve ne escono a centinaia. Infatti all'inizio avevo iniziato con quelli, poi loro mi hanno detto che c'era la possibilità di questa applicazione e sono andata su quella. Questa qui è l'applicazione, questa qui piccola a blu, però comunque quando farò il Whats and my iPhone lo vedrete meglio. Ed è un'applicazione super completa, ci sono i quiz sia per argomento, sia per quello facsimile, dell'esame vero e proprio. Io devo dire che all'inizio ho fatto tutti, e dico tutti, non ho saltato neanche mezzo, di quelli per argomento e poi sono andata, anche diciamo un po' saltellando tra queste due cose, sono andata a quelli facsimili dell'esame, che naturalmente sono quelli che mi servono di più, perché poi l'esame sarà fatto così. Per quanto riguarda l'esame, allora, quando mi sono sentita pronta, tra virgolette, la prima volta che sono andata, io ho detto di prenotarmi l'esame e me l'hanno prenotato il 5 di ottobre, per chi è stato dietro a questa mia cosa se lo ricorderà, e praticamente cosa ho fatto? Io il giorno dell'esame sono andata con la carta d'identità che serve sempre e il foglio dell'autoscuola che vi dà, che naturalmente segna che avete pagato l'esame e tutte le varie scartoffie. Poi, cosa vi fanno fare? Allora, almeno per quanto riguarda la motorizzazione dove sono andata io a Roma, vi chiamano per nome e c'è scritta poi sul foglio che vi darà l'autoscuola l'aula in cui siete, ci chiamano per nome e entriamo nell'aula e praticamente vi fanno sedere nei banchetti davanti al computer e ci sta tipo una sorta di portalino attaccato al computer dove poi dovete mettere la scheda che vi darà il signore o la signora che lavora, insomma, che vi dà la scheda. Quindi per darvi questa scheda vi chiamano, vi dicono, vabbè, nome e cognome, vi date la carta e vi danno questa schedina, tornate a posto e niente, quando vi dicono inizia l'esame, inserite la carta. Tanto qui c'è Guenda che mi sta facendo dannare, ma va bene. La inserite e poi si dovrà cliccare, vabbè, inizio esame. Inizia l'esame, naturalmente, come penso vi avranno spiegato, dura mezz'ora, quindi avete mezz'ora di tempo per 40 domande con massimo 4 errori da fare. Naturalmente io, la prima volta, ho fatto 5 errori, perché così ci andava, quindi ho fatto un errore in più dei 4 che si potevano fare e per questo sono stata bocciata. Non potete capire quanto ci ho rosicato, ma vabbè, poi andiamo avanti. E praticamente ho ristudiato un altro mese, perché quando siete bocciati all'esame di teoria, credo anche di pratica, per rifare poi il secondo bisogna aspettare un mese e un giorno. In realtà, quel giorno del secondo esame, sono andata con una sicurezza maggiore e un'ansia minore, che aiuta sicuramente, io sono una persona estremamente ansiosa. Però vi posso assicurare che se vi autoimponete di stare un po' più tranquilli, vi andrà meglio, perché già da quello, insomma, state un po' meno ansiosi. Quindi la seconda volta, stessa cosa, e forse avevo meno ansia, anche perché sapevo come si svolgeva l'esame, quindi stavo un po' più tranquilla. Ho fatto tutto quanto e mi sono accorta di poter passare al secondo esame, perché ad esempio la prima volta che ho fatto l'esame, ci ho impiegato tutta la mezz'ora che c'era a disposizione, mentre la seconda volta, che tra l'altro è stata mercoledì 16 novembre, quindi è passata praticamente una settimana, ci ho impiegato 10 minuti per finire 40 domande. Quindi già da quello mi sono accorta, ok, sto andando bene. Ho fatto quello, poi mettete e chiude l'esame e riportate la schedina all'esaminatore. Dopodiché, quando tutti hanno finito, tutte le persone che sono in sala hanno finito l'esame, vi diranno entro pochissimi minuti se siete passati oppure no. Nel mio caso io sono andata e mi ha detto, sei passata? Io stavo tipo, non potete capire, non stavo in paradiso di più, stavo ancora più sopra. Non mi hanno detto gli errori perché quando passi mi hanno detto che il computer non li dice. Comunque sia, sono andata poi dopo su un sito che si chiama il portale dell'automobilista, ve lo lascio qua sotto il linkato, dove poi potete richiedere, dopo che vi siete naturalmente registrati e tutto, la scheda dell'esame che avete fatto. Io l'avevo chiesta sia nel primo sia nel secondo caso. Nel primo caso ho riuscato ancora di più perché mi sono accorta che ho fatto certi errori assurdi, cioè proprio che si potrebbero evitare, ma vabbè. Nel secondo caso ho richiesto la scheda e mi sono accorta che una cosa che avevo cambiato l'ho sbagliata. E vabbè, era un errore. E l'altra cosa che avevo sbagliato in realtà non me la ricordavo, però l'ho sbagliata, quindi in tutto ho fatto due errori la seconda volta. Però la scheda era facilissima rispetto alla prima, vi giuro, facilissima. Quindi dopo aver passato quello teorico, che era mercoledì, il sabato già mi avevano messo all'autoscuola la prima guida. È stato un po' un travo perché non me l'aspettavo. Poi io comunque non ho mai guidato, mai, neanche per scherzo, mai... sai, a dire ma mi fai provare a guidare, cioè mai, perché ripeto, sono una persona ansiolitica. E quindi sabato ho fatto la prima guida. In realtà è andata molto meglio di quello che mi aspettavo, perché, ripeto, non l'avevo mai fatta, quindi mi ha spiegato tutti i vari pedali, frizione, freno, acceleratore, le marce. Il giorno dopo aver fatto la prima lezione, quindi domenica, ho fatto una guida con mio padre in uno spiazzale, in un parcheggio, naturalmente, senza andare sulla strada. E devo dire che anche lì mi sono un attimo più immedesimata in un guidatore normale. E secondo me la cosa importante della guida è la pratica, cioè farne tantissima. Io infatti da sabato ho iniziato, lo sto facendo tutti i giorni. La seconda lezione invece con l'istruttore l'ho fatta ieri, che era lunedì, e l'ho fatta di sera, perché c'è l'obbligo di farla sia serale sia sull'autostrada, le guide con l'istruttore. E appunto ieri mi ha anche fatto fare l'istruttore la mia prima guida su una strada con delle persone che hanno una macchina e mi sono impanicatissima, ma anche lì è andata meglio di quello che pensavo. Quindi succo della situazione, cercate di restare calmi, perché tanto fare cose ansiosi, eccetera, non serve a niente. Anzi, vi compromette. Anche adesso ad esempio sono tornata da una guida che ho fatto con mio padre e che ve lo dica fa sempre meglio, stessa storia. Quindi il mio consiglio per quanto riguarda la teoria, ve l'ho detto, per quanto riguarda la pratica è farne tanta e cercate soprattutto di memorizzare bene i movimenti, perché una volta memorizzati mi sono resa conto che vengono proprio spontanei, cioè non te ne accorgi più a una certa, no? E ti viene da farlo così spontaneamente. Detto questo, per ora il mio percorso è fare tante guide. Non so quando prenderò l'esame per quanto riguarda la pratica, ma farò passare molto tempo, perché penso che per fare l'esame di pratica bisogna sentirsi proprio sicuri al 110.000%, perché altrimenti, cioè, ci si impanica ed è un casino. Quindi io infatti cercherò di farne il più possibile e soprattutto tutti i giorni, perché così il corpo, la mente, il cervello si abitua e viene tutto più automatico. Detto questo, scrivetemi qua sotto se avete qualche consiglio, anche per le persone che andranno a leggere i commenti che magari sono all'inizio. Oltre ad aver ascoltato la mia opinione nel video, possono leggere la vostra invece nei commenti. Naturalmente se vi è stato utile questo video, mettete un pollicino in su e iscrivetevi se ancora non lo siete, se siete nuovi, se siete capitati in questo video così. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!